... L'inizio della stagione sarà senza imprevisti, così come l'anno scorso, o meglio, il primo episodio soltanto, poi dal secondo episodio della seconda stagione ritorneranno gli imprevisti, perché ripeto, all'inizio abbiamo troppe martite toste e bisogna partire subito con il più giusto. Unico problema che non si riesce a risolvere è Orsolini. Mi odia! Quindi probabilmente l'unico modo per salvare Orsolini, immagino, sarà cambiare l'anatore. Io penso che solamente facendo fuori Beppe Signori si salverà Orsolini. Speriamo che non ce lo vendano nel frattanto. Il Napoli ha voglia di stupire in questi inizi di stagione. Io mi chiedo perché, a 9 minuti, cosa può avergli mai detto? Gli ho affeso la sorella, come ha fatto Materazzi con Zidane. Diciamo che mi fido più di Timprica. Almeno lo testiamo. La Cante che pressa in attacco. Ne ho un po' di mettere anche una mentalità, magari in questo caso, positiva. Attenzione a Lozano! Che porta in vantaggio il Napoli. 1-0, io lo sapevo che finiva così dopo l'espulso. Dominguez, palla per Moro! Qui poteva arrivare il gol a Gerrard, e invece no. Rosas, sull'alti destra, sta spingendo Rosas. Ha sentito le critiche, vuole rifarsi. No, non è vero, perché la palla ha passato da Orsolini proprio nei momenti in cui speravo potesse fare qualcosa di intrigante. Timprica! Pareggio Bologna! Nel momento in cui abbiamo beccato l'espulsione e abbiamo giocato meglio, fateci caso. Nel momento in cui abbiamo beccato l'espulsione, il Bologna ha cominciato a giocare. Come se avesse avuto quello schiaffo, no? Forte, che l'avessero un po' un attimino svegliata. Una live su YouTube o un... no, mai fatta live su YouTube. Però potrebbe anche arrivare. Per il momento ho sempre pensato di vedere YouTube come una, diciamo, piattaforma dove solo caricare roba. È molto forte Ramazzani da live, ma speriamo, perché in realtà io volevo puntare a tale smagno. E invece arriva il gol di De Codemme. E invece ho preso Ramazzani. Gol del Napoli, 2-1. Ritorno in vantaggio. La squadra è partenopei su questo calcio di punizione. Un po' sfortunato il Bologna, credo, in questo contesto. Poteva essere un po' più fortunato, perché qui, diciamo, Ramani prende sì il pallone, però la tira addosso un altro giocatore e poi entra la palla dentro, no? Veramente super, super sfortunato in questo momento il Bologna. Bologna sotto, ma con un in meno. Però comunque questa offensiva con... Se non è molto basso in questo caso, però potrà sicuramente tagliarsi il centro. Servire Moro, Dominguez ancora. Paglia in avanti per Ramazzani, in scivolata. Passo scatenato, anche lui. Si butta in scivolata, meno male che non piglia le gambe dell'avversario, ma pia il pallone. Moro in avanti per Timplica. Salta l'uomo! Timplica! Che mossa ha fatto, ragazzi? Abbiamo preso un fenomeno. Secondo me abbiamo comprato un fenomeno. Punizione di Valeri. Pala sul sedo palo. Osimen anticipa tutti, ma c'è ancora Moro che alimenta l'azione per Valeri. Sulla sinistra. Ramazzani la mette al centro. Tim, 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 Timplica! 2-2 del Bologna. L'ho detto che questo è un fenomeno, eh. È acquistone dei rialzi, assolutamente. Timplica quest'anno ve lo straconsiglio. Avete un bel giocatore. Poi abbiamo la Juventus che perde col Milan, col gol di Taremi. Me di Taremi. Quanto l'hanno pagato questo? Ha preso la 10! Taremi nel Milan ha preso la 10! Comunque le stazze sono buone, eh. Fisazione 14, freddezza 15. Mentalmente fa paura questo, eh. Sembra un fuoriclasse. Cioè, le stazze mentali sono da fuoriclasse? Zagnolo ci lascia. Va dalla Roma al City per 46 milioni. Scalvini che va all'erta a Berlino. Incredibile. Nacio da Real al Milan. Ma come nacio? Ma c'è 33 anni! Non l'ho capito sto trasferimento del Milan. C'hanno lo Sugar Daddy. Questo spiega tante cose. Questo spiega tante, tante, tante cose. Faremo sempre sei partite. Ma ne abbiamo fatta una, quindi ce ne restano cinque. E una che sarà simulata sarà sempre quella più semplice. Se ce ne sta più di una, si fa un sondaggio in chatta. E dicete voi, insomma, sarebbero da simulare o Torino o Genoa. In questo caso Genoa è il fuoricassa, quindi non me la sento di simularla. Simuleremo Torino. Questa è la partita più semplice. Quindi questa volta decido io, perché l'episodio è molto particolare. Presenta troppe sfide toste. E non vorrei partire con troppi punti in meno. Steven Gerrard è la personcina, insomma, che viene qui a fare da ospite. Speriamo di beccare l'Ipsia. Perché le altre mi sembrano un po' troppo forti. Anche se l'Ipsia resta sicuramente... E te pareva. Chelsea, vai! Si esce subito dalla Champions. Ma speriamo nel Ren, va? Speriamo nel Ren. Beh, dai, almeno il Ren. Almeno il Ren. Se becchiamo malaguratamente lo Sporting o l'ERTA. Secondo me ci sono buone possibilità di vedere Bologna, diciamo, fuori dei giochi. Sin dal primo giro di Champions. Neanche l'Europa Liga. Etta Berlino. È finita, ragazzi. Mettiamoci una pietra sopra. È stato bello credere in questa Champions. Siamo già fuori. Penso il peggior girone possibile e immaginabile di questa avventura. L'abbiamo beccato noi. È incredibile. Il peggior di tutti. No, vi sfido a trovare un girone peggiore del nostro. Il gruppo B è una passeggiata. Sembra Europa Liga. Il gruppo B da conference. Beh, la golla è incredibile. L'altro è davvero strafortunata. Troi Parrot, 17 milioni. Ma io spero che abbiano preso il Troi Parrot buono, perché 17 milioni sono tanti, eh. Una volta Troi Parrot era decisamente più intrigante, però la scheda è buona comunque, eh. C'ha ottimi doti di inaccelerazione e velocità. Buona filizzazione ancora. Freddezza un po' bassina, eh. Freddezza quasi più d'attacco all'esterno che da punta vera. Ma infatti qua lo stanno proponendo più come ala invertita. Bologna, dodicesima, come costo ingaggi in Serie A. Non abbiamo visto l'anteprima di stagione. Siamo noni. Mi sembra che inizio stagione fossimo quotati, penso, decimi. Siamo saliti di una posizione, però vedete come siamo lontani dalla vita. Qua abbiamo qualche problema in più per quanto riguarda la Champions. No, a Bardi resta sicuramente. Ravaglia addirittura. CVS. Ravaglia, tra l'altro, è l'unico CVS. La vedo molto male questa situazione. Me la rischio con secondo portiere Ravaglia. Vabbè, speriamo che non si rompa Lavrovic. Che vi devo dire? Speriamo non si rompa Lavrovic. Questo è un bel rischio, eh, in Champions League. Magari a gennaio cambiamo idea, ma fino a gennaio sarà così. Juara l'ho liberato a parametro zero. Sono stato la persona più felice del mondo quando l'ho visto liberarsi a parametro zero. E' andato a Catanzaro. Pegna esterna preoccupazioni. Oh, 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 Lucullusa. Ma guarda che io vengo da Barcellona. Ecco, tu ti rispetto. Ma tu chi sei? Sono quello che ha vinto lo scudetto. Signore Gnachipegna. Quindi io fai quello che dico. Io te ne puoi andare. La porta sta di là, eh. Comunque faccio finta che c'ha ragione lui. E gli prometto che non... Se no poi mi rompe le scale. Juana nel mio save al Parise Germenerasmo. Non penso che sia al Parise... Forse al Parise FC è più probabile. Allora, abbiamo Regista Lettrato Portanova. Fatemi controllare se poi viene confermato, sì. Allora, visto che il Regista Lettrato è Portanova, visto che è Frendrup, sì. Un minimo di qualità ce l'ha, ma non la vogliono sfruttare. Io andrei a bloccare più Portanova. Quindi su un avversario, Portanova, Pressing. E tosta sta partita, eh. Io l'ho detto. L'avversario che abbiamo di fronte ha schierato due giocatori rapidissimi che potrebbero mettere in grandissima difficoltà quest'oggi il Bologna. Infatti quest'oggi era meglio non mettere difese alte, no? Proprio perché ci stavano giocatori molto veloci. Temprica! Un uazzo del Bologna. Orsoligno la mette al centro. Nessuno ci arriva. Frendrup l'incontrista è inutile, quindi favorisce Dominguez. Va roba! Guarda lì che entrata. Perché non l'ha munito? Ma non l'ha neanche espulso e munito? Ma perché a me sì l'altra volta questo no? Pure rigore inesistente! Non ci credo! Palese complotto contro il Bologna. Non ci vogliono far vincere. Temprica! Butta la terra due volte! Oh! Ma fischia ogni tanto! Ma com'è possibile che non fischia mai? Rocky, meglio così dici che abbiamo fatto gol. Effettivamente... No! L'ho finalmente vista! Ma che cacchio è Guven Jalsin tra là? Cioè mi ha fatto la prima rovesciata che vedo in FM. La vedo da Guven Jalsin. Ma pure è anche bella tra l'altro. Guardate che è una coordinazione diversa. Io l'ho mai vista così negli altri anni. Era sempre bruttissimo da vedere. Mentalmente non sta messo male. Fantasia 15. Poco determinato ma... Decisioni anche buone. Visione buona. Senza palla ottima. Ambidestria. 1,85 per 80 kg. Quindi anche struttura forte. Agilità 13 con questa struttura fisica. Tra l'altro non è niente male. Fuorigioco netto. Rimetti l'azione ale sul rimpallo. Attaccare diventa attivo. Questo devono imparare a mettere qualche frame in più. Perché se ne sembra un casino... Palesemente fuorigioco. E quindi non era rigore. Sempre... Sempre a lamentarvi. Que... Se... Oh! Sempre... Ma perché tirate fuori sti rigori? Solamente perché volete il Bologna in alto. Eh? Dovete essere più realisti. Dovete essere più oggettivi ragazzi. Io ho capito che il Bologna sia una grande squadra. Che siamo tutti tifosi. Però... Ragazzi qua ci stava fuorigioco eh. E qua ci stava fuorigioco netto. Sempre a dire complotto. Rigore. Rigore. Non c'è il rigore qua eh. E Giofenix c'ha ragione qua eh. Qua il rigore non ci stava. Eh ragazzi. Meno tifosi però eh. Meno tifosi. Più oggettivi. Qua non ci stava il rigore. E non ci stava neanche il gol eh. Gol regalato al Bologna. Vergogna. Vergogna. Devono toglierci il gol eh. Io mi batterò chiaramente nel post partita con l'arbitro. Ma già chiaramente tra primo e secondo tempo per sottolineare quanto hanno sbagliato. E hanno falsificato la partita con questo errore gravissimo. Scunetto evocato e si è dalla quarta classificata Erasmone. Sono d'accordo eh. Si fa così però eh. Eh non si fa eh. Poi se si fa il 3 a 0 diciamo che si è dominato. Però se finisce così effettivamente C2 potevano crederci. Fare anche il 2. Ma la chiude lì Joshua. Ma non vi preoccupate Joshua. Ma che sono questi discorsi rigori. Ma ci penso io. Qual è il problema. Toglietecelo pure il secondo gol. Qui si vede anche il senso dell'avere eh un'ala invertita o un'ala. Perché lì un'ala avrebbe fatto prima il cross no. Vedete come cosa deve fare Barrow per andare a fare il cross no. Lui qui è lanciato. Potrebbe puntare alla porta. Stop di petto però a un certo punto si trova dopo lo stop di petto. A essere troppo largo. Quindi perde la possibilità di andare al centro. Ma lui è piede destro. Quindi deve chiaramente sterzare. Portarsi il pallone sul piede giusto. E poi effettuare il cross. Lui in questo momento ha perso un tempo di gioco. Ma è fortunato. Perché i suoi compagni erano dietro. Quindi il fatto che lui stesse davanti perde un tempo di gioco. Non gli preclude il nessuna possibilità. Perché adesso può andare a cross. E sperare che però poi. Visto che i due difensori hanno recuperato del Genoa. Sperare che il buon Joshua possa colpire bene. Avendo uno strapotere atletico sul diretto difendente. Perché qui in questo caso non è un difensore centrale. Ma è Ruggeri. Ovvero il terzino. Quindi in questo caso è sfortunato Ruggeri. Perché è sicuramente più forte Joshua nel gioco aereo. Diverso avrebbe stato il caso se ci stava magari uno dei due difensori centrali. Che potevano sicuramente diciamo contestare più facilmente Joshua. Però qua si vede come una possibile situazione diciamo negativa. Si tramuta in positiva solo perché ripeto Joshua ha un vantaggio sul difendente. Anche perché partiva più basso. Ma qui un ala non avrebbe fatto sto discorso. Avrebbe subito dopo lo stop di petto crossato al centro. Però lui non aveva il piede giusto per farlo. Quindi deve perdere tempo. Joshuone per Rosas. Sul lato di destra. Spinge ancora in Bologna. Ma Rosas non va da nessuna parte. Infatti vedrete come sbaglia per l'ennesima notte cross. Ma lo vedete che non è capace. Lo vedete che non è capace. Ma perché abbiamo Rosas in campo? Perché abbiamo sempre Rosas in campo? Va tolta sta roba. È un investimento buttato proprio. Sto Rosas. È un pacco clamoroso. 3-0 importante questo. È una partita tosta. Una partita dove abbiamo rischiato tanto. Seconda partita dove ritornate un'altra volta in Bologna. Ma il Genoa è neopromosso. Caspita. Se perdiamo col Genoa. È meglio se cambiamo sport. E poi il bello è che Genoa a Bologna, a voler essere onesti, era una bella sfida anni fa, no? Tanti decenni fa però. Proprio agli albori del calcio, quando ancora non ci stava il girono unico. Perché erano team che avevano vinto tanto, no? In trasferta. Si esordisce in Europa in trasferta contro il Chelsea. Ma si può già partire così male in Europa? Come fai a dire che dobbiamo allenarlo in forza? Se c'ha 14 in forza e 15 in relazione. A tizio. Alex Ugex. Te ho capito che sei francese, però. Quote per il titolo di cannoniere. Mbappé quotato a 4. Oland a 4,30. Quindi Mbappé ha quotato più vincente di Oland. Poi Lewandowski. Salah, Benzema e Immobile. Lucumini. Nuovo contratto. Ma fino al 2025 sei a posto. Ce la siamo cavata con una discussione rapida. Buono. Buono. Perché se cominciamo già a rinnovare i giocatori è un bel problema. Casius. Anche lui. Per essere un giocatore di Serie A giustamente 4,60. Cioè lui sono pochi. Vediamo un po' se possiamo utilizzare magari la gente per abbassare un po', eh. Vorrebbe un milione e cento. Sbarra 1,40. Che però mi sembrano un po' esagerati. Sono troppi. Li abbassi a 1. Sbarra 1,3. Non sei giocatore da Bologna se metti... Si anteponi l'interesse economico alla rosa. Accettato. Dai. Un milione a Casius. Riserva. Terzino destro. Quindi Torino che si mette in campo con un 3,4,2,1. Abbiamo in questo caso bloccato con il pressing il giocatore più pericoloso Miranciuk. Cerchiamo anche di marcare stretto Pietro Pellegri. Quello che abbiamo fatto a livello di sui solitatti che è stato aggiungere semplicemente per il Torino questo contrasto di cross. Questa però come partita verrà simulata. 4-0 del Bologna sul Torino. Quindi l'Argi Ramazzani. Doppietta di Vignato addirittura. E anche gol di Joshua. Buono. E devo dire che il secondo in comando mi sa che è meglio di me. Allora dimelo prima. Te mi fai vedere facciole sorridente di Montella. Già ho capito che finisce male. Già becco il Chelsea. Poi mi metti di fronte. Anche la faccia sorridente di Montella che mi sfotte. Cangiona ha avuto piccole difficoltà per quanto riguarda la freddezza. Vai. Matteo Angeli considera la media di Uale sulla resistenza. Vai. Pazzo tutte indicazioni giuste oggi. Incredibile. Lelo. No ecco infatti è arrivata subito quella sbagliata. Contatto mio per Lugumi. Sennò poi ce lo chiede veramente. Ravaglia contro il Chelsea. Ma come faccio a giocare io con Ravaglia contro il Chelsea? Ma da ma non si può mettere Ravaglia contro il Chelsea. Fofanati Agosilva. Come è stato Agosilva dopo un altro anno? 9-9. Pazza mia. Che gotta. Rhys James. Rhys James. Madonna mia che giocatore Rhys James. Mamma mia. Aspiriqueta. Sì vabbè sono tutti forti. Che te ridi. Canteca. Sì vabbè. 3-20 c'ha. Gioco di squadra. Impegno. Intuito. Determinazione 19. 19 contrasti. Tutto. Sono tutti alieni. Meso Mount. Pure lui c'ha un 20. Poi abbiamo Kai Havers. Sì. Ma io che gioco a fare oggi? Ma che. 20 in dichiaria fisica. Gli hanno messo pure un 20 a Sterling. Che coraggio. Romero Lukaku invece. C'ha 20 in rigori. 20 in equilibrio. 20 in forza. Ma sì. Ma. Ma. C'è la possibilità di non scendere in campo e chiedere un pareggio politico in questi casi. Perché secondo me non sarebbe male. Perché io non ho registrato il secondo portiere. Perché purtroppo l'unico CVS che avevo. Quindi giocatore cresciuto nel divaio del club. E' la ravaglia. Eh. Quindi non. Non volevo diciamo tenere fuori Ebischer. No. Per mettere Ebischer in più. Quinto centrocampista. Ho deciso di togliere il portiere di Serba. Eh. Bella pensata. Devo dire. Giorginho. Per Canté. Ovviamente siamo in Inghilterra. E non poteva. Non piovere. Eh. Mi sembra. Mi sembra giusto. Passa sta palla Lelo. Bravissimo Lelo per Dominguez. Dominguez in verticale per Joshua. Se c'era Timprica. Ah. Se ci fosse tutto Timprica. Rosa. Palla persa. Chi caspita è che non ha tirato in porta. No. Vabbè ragazzi. Ma Orsolini che fa? Ma fai un tacco. Ma bastava fare un tacco. Il portiere è andato dall'altra parte. Faceva un tacco volante. Vende l'Orsolini ragazzi. Appena si va per il mercato. Si vende l'Orsolini. Io non posso avere sta gente qua che non capisce. L'ho capito io che andava fatto il tacco. Eh. Ci sta. Ci sta. Grandissimo Dominguez. Che si procura il rigore. Nel momento più del Chelsea. Grandissimo Dominguez. Che si procura il rigore. Nel momento più del... Giorginio ferma da Dominguez. Oggi è arrabbiatissimo Dominguez eh. Oggi Dominguez è un fire. Timplica lo fa. Timplica lo fa. Timplica non lo fa. Timplica. Non va al giro. Continua in perterito. Poi smista Rosas. E con Rosas. Palla persa. E vedi che... Questo non sa... Non sa crossare. Non sa tirare. Sa fa nulla. Cagliaversa. La mette a cedo per Lukaku? No. Per Rhys James. Fermata Dominguez. Mason Mount. Cagliaversa. Fermata ancora. Palla per Sterling. Tiro di Rhys James. Go del Chelsea. E immaginavo che questa sarebbe stata la fine di questa partita. Non mi aspettavo già a ventesimo. Una mazzolata di Rhys James. E chiaramente fenomeno in vero e condo. Il Chelsea farebbe più share del Bologna. Ecco perché chiaramente l'arbitro non dà il rigore netto per il Bologna. E invece va a fare gol al Chelsea. L'anno scorso ho preso il Covid dal 16 dicembre al 12 gennaio. Azzumese Thomas. Quindi Natale, Capodanno e Befana da solo in camera. Stamani invece la mia ragazza ha fatto il tampone ed è positiva. Quindi due anni di fila Capodanno a casa. Ormai resto con lei e me lo prendo anche io. Thomas non sei fortunato? No. Però diciamo che possiamo vedere il bicchiere mezzo pieno. Nel senso che in questa brutta cosa almeno non è più come l'anno scorso. Te la caverai penso con una settimana. Eventualmente non sarà più un mese. Lukaku. Due gol in un tempo. In un tempo di gioco il mitico Chelsea ci fa già il secondo gol. È un'altra storia la Premier. Io ve l'ho detto. La Premier è tutto un altro campionato. Ci sono squadre nettamente più forti rispetto alla Serie A. Orsolini. Palla per Dominguez. Dominguez per Barov. Scusate ma cos'è un catenaccio? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Torna dietro. Otto, nove, dieci. Ma stanno, stanno tutti nell'area loro? Eh, che hanno paura del Bologna? Esonerati Rucullusa. Abbiamo vinto il campionato l'altro giorno. Sì, sono erano Rucullusa. Per aver perso malamente con Chelsea che è uno squadrone. Non penso. Statistiche ideali per un ACP, Enzo. Guarda, ne abbiamo parlato su YouTube. Ci abbiamo fatto un video sulle caratteristiche più importanti. sia come statistiche, tecnicamente alle fisiche, sia come caratteristiche giocatore per le punte. Abbiamo parlato anche dell'ACP. Però, diciamo che la caratteristica principale di un ACP rispetto alle altre punte è l'aggressività, no? Che lo contraddistingue. Perché è un giocatore che fa due fasi. Lukaku per Pulisic. Kajaversa. 3-0 del Chelsea. Addirittura al 76esimo. Kala il sipario. Notte fonda. Signori out. Ma non penso, ragazzi, 3-0 col Chelsea. Penso che ci sta, eh. è del tutto legittimo. La curva non è soddisfatta, Graffetta. Prossima sfida con la Juventus. Neanche il tempo di rifiatare che già arriva un'altra super partita. Guardate come sarà lì di polla. Quest'anno la Juventus non ha gli infortunati dell'anno prima. Quindi sicuramente sarà difficile da affrontarla. Anche il Di Maria a 15-14 in accelerazione e velocità 16 in agilità a 35 anni. Ma perché chi nasce a Rosario, ovviamente, è differente. Lo capisce o no? Abbiamo un conto aperto contro la Juventus, eh. Daglie. Orsoligno. Blaccato addirittura. Orsoligno. Salta comunque Pogba. La mette su Timprica. Palo di Timprica. Non ci posso credere. Palo di Timprica sul fine del primo tempo. Si poteva aggiustare la season. Entra Marco. Attenzione. Attenzione Arnatovic. Entra per fare golla. No, ragazzi, tranquilli. No, Arnatovic non tocca palla. Allora, adesso lui fa finta di correre. Si blocca. Fa finta che ha beccato uno strappo. E si ferma. Mi faccio vedere. Mi faccio vedere che lui è una persona corretta. Guarda. Vedi che... Mo fa finta che cade per terra. Però l'ha sbagliata apposta, eh. Perché da lì l'avrebbe fatto il gol. Arnatovic sa che ovviamente i tifosi bolognesi gli vogliono bene e la butta chiaramente sul fondo, eh. Di Maria Basso per Pogbeca è ovviamente passa in vantaggio la Juventus. Io ho detto peggior incubo in questo inizio di stagione. Non poteva esserci con questo calendario veramente da horror. Tutte noi le abbiamo beccate le scuole forti. Tutte noi. Di Maria su Punition gol della Juventus. 2-2. 2-0. Finisce qua. La partita del Bologna finisce su 2-0 della Juventus. 2 di fila, signori out. Bene, a golla. Vabbè, 2 di fila però contestualizziamo anche l'avversario, eh. Alla fine siamo a 3 punti, no. Siamo a 5 punti dall'Inter. È apertissimo ancora il campionato. Ha non meritato. Nulla da dire. Non si può dire nulla. Non mi soddisfa il risultato. Si è incazzato Joshua. Sconfortato anche. L'UQM è motivato. Oh! Oh! Sono io che mi devo incazzare. No, tu! Stato appunto sta già chiamando Ballardini. Oh, balla! Oh, balla! Eh, ma a posto di sto qualcosa di signori, eh. Che anche quello è come una è come un fuoco di paglia. Ha fatto un anno, poi lo puoi buttare tranquillamente nel rusco. Non vale nulla. Allora, qui abbiamo Correa che però sta assegnando tanto, eh. Correa sta assegnando tanto. Poi abbiamo anche Martinez in supporto, ancora. Verino, Barella, Brozovic, Dunfis, Gosens, Acerbi, Bastoni, Skrini. E anche questa la si perde. Poi, ripeto, prossimo episodio se ti cominci a vincere, eh. È un episodio di, come si dice, transizione. Non è che si può vincere sempre. È un episodio di transizione per far capire anche ai ragazzi che tifano Bologna, che la vita è dura e che quando vinci devi godere perché ovviamente sono cose che capitano raramente perché la vita normalmente è fatta di sacrifice e tocca anche perdere, capito? È una lezione di vita questa di questo episodio del Bologna. Vanoidon che sembrerebbe forte in tutto rispetto a Raimondo, abbiamo persino un punticino in più in accelerazione. Io volevo lanciarlo, Raimondo, però purtroppo non è che mi dà tante chance. Vanoidon tutta la vita, eh. E ora a sto punto ci si mette Vanoidon. Allora, qua li torniamo un attimino in tattiche e ci rimettiamo un'altra volta con contrasta i crossa. Poi torniamo un'altra volta qui, andiamo sull'avversario. Eh, qui sarà complicato, eh. Purtroppo con l'Inter anche qua un po' come qua Juventus è difficile utilizzare tante istruzioni sull'avversario. 18 in visione di gioco per Charanoglu 16 in fantasia. Ma chi l'ha fatta sta scheda? Un tifoso dell'Inter? Affrontassi l'Empoli farei il discorso opposto. Direi Raimondo potrebbe magari anche fare una bella prestazione, no? Perché la sfida è abortabile. Quindi dipende anche dall'avversario ovviamente. Poi quando arriveranno gli imprevisti come l'anno scorso e quando arriveranno i migliori in allenamento si faranno scelte differenti. Però questo primo episodio come avete visto è davvero tosto quindi conveniva secondo me pensare in maniera differente. A Charanoglu subito in becca correa esce male no esce bene caspita pensavo avesse sbagliato il tempo ma l'Avrobic alla fine è riuscito fatemi rivedere questa qua perché si è buttata addosso pensavo avesse uscisse male nel senso che andava in scivolata e invece si è messo come un muro davanti questa è bella uscita effettivamente ma col piede l'ha parata l'ha parata col piede un portiere da hockey praticamente Charanoglu largo benissimo per Di Marco qui siamo scoperti qui siamo scoperti ci hanno preso in contropiede bene Brozovic gol dell'Inter Marcelito Brozovic siamo un po' impreparati con questi squadroni qui dobbiamo cercare di sperare nel prossimo episodio per fare qualche punto in più Orsolini vai Riccardino Orsoligno c'è sempre quando la situazione si fa difficile e amigos i campioni sono così quando arriva il momento giusto arriva Orsoligno che la pareggia qua io firmerei su qualsiasi foglio per un pareggio qua fuori casa con l'Inter perché poi sono sempre tutte fuori casa fuori casa contro l'Inter fuori casa con la Juventus con Napoli non mi ricordo se era fuori casa mi sembra pure fuori casa con Napoli sarebbe camoroso dopo andiamo a controllare ma se abbiamo fatto tre partite fuori casa in tutti e tre big match devo dire che qualcuno ci odia Dominguez per Moro Orsolini vai Orsoligno 2 a 1 mamma mia che Bologna e si riprende grandissimo Orsoligno 2 a 1 all'Inter così si fa facciamo vedere chi è che vince i campionati qua a questi qua che hanno i poteri forti hanno i soldi da loro facciamo vedere come si vince sul campo ma mi battono 4 a 2 con il cesso era fuori casa anche veramente si è vero mi ricordo perché ho detto sta piovendo in Inghilterra e quando mai hai ragione ma hanno messo difensore Merino veramente non ha senso 3 a 1 del Bologna sull'Inter Gufulus per fermare l'Inter graffetta ragazzi purtroppo l'Inter è forte se non facciamo i gufi qua questi sono squadrone ma io posso giocare con con Corbo posso giocare con Corbo ma per favore ma siamo seri facciamo un po' un confronto tra Corbo e Biggs visione di gioco addirittura più per Corbo non ho capito perché abbiamo un Biggs così scarso tocca a mette Corbo non ci posso credere ma roba oh ma noi Donk ma porta vuota ma stavi a portare a terra Corbo giustamente non interviene sulla Taro mamma meno male che c'è Labrovic meno male che c'è San Labrovic ma quanto è scarso Corbo ma perché mi dite che lo attacco sempre avete visto quanto è scarso è vergognoso ma come fa a giocare Corbo in Serie A ma non poteva darsi pure lui a Carling eh ma scusate ma che razza di giocatore è sto Corbo e invece riparte Barella Barella in surplassa Barella fino in fondo vuole fare il cost to cost fermato umiliato da Cassius con qualità con con Cassius qualità cosa hai mai visto con Rosas bisogna Vanoidonk 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 bella potenza scarsa precisione eh come ricorda lo spot di R9 la potenza è nulla senza il controllo purtroppo Sole cuore amore no quella è una canzone di Paolo e Chiara se no se non mi sbaglio sono sposate portati loro ho sbaglio no ma perché c'è stato un misandestende effettivamente ho sbagliato ho confuso ho confuso due altre ragazze che si erano sposate penso tempo fa sbagliate è un gesto storicamente le grandi dinastie lo facevano è storia questa qua oh sono sorelle ma che stai a di questo ha bevuto oh ragazzi mica l'ho fatto io l'incesto l'hanno fatto loro eh lo sono fatti loro se voglio no ma stavo scherzando mi sono confuso con un'altra coppia può capitare fanno l'annister di cognome non penso mi sono confuso chiaramente con altre due ragazze Inter 1 Bologna 3 quindi si vince di cattiveria contro l'Inter che è una squadra assolutamente acerima nemica del Bologna ci siamo ripresi alla grado dopo due batoste calamorose con Chelsea e Juventus allora il Bologna B eh non è partito bene eh attenzione bella mazza però meglio della Juventus ex gen eh dobbiamo essere orgogliosi meglio della Juventus ex gen per il momento eh abbiamo due punti in più Copado capocannoniere del campionato cadetto ma la prossima diciamo come episodio sarà con Milan e Taberlino che saranno due partite da vincere a tutti i costi soprattutto l'ERTA ancora più che il Milan perché chiaramente vogliamo far bene in Champions almeno arrivare in Europa Liga almeno terzi nel giorno di non arrivare oh se poi dovesse anche andare male il prossimo episodio saputo c'ho le spalle coperte signori out tanto la soluzione ci sta già in casa Lucianone Spalletti è diventato osservatore del Bologna ed è passato da avere milioni e milioni di ingaggio a 170k tra l'altro le stats per fare l'osservatore ce l'ha pure tra l'altro ho preso dal direttore sportivo e non è che l'ho preso io il direttore sportivo ha attuato questo accordo devo dire che ci può stare che un allenatore magari a fine carina voglia rimanere in modo del calcio e quindi magari scegliere una professione meno stressante però a 64 anni spallettone osservatore insomma questa è una tendenza che è un attimino corretta sul football manager perché non è la prima volta io vi do spesso e volentieri raniere diventare osservatore e anche altri allenatori big trasformarsi in osservatori in una situazione che va sistemata un pochino se io do me è